ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi vorrei darvi alcuni consigli per quanto riguarda il viaggiare in inverno prima di tutto voglio dirvi che io utilizzo la moto tutto l'anno ma la utilizzo naturalmente di più fino a arrivare al mese di dicembre e poi ricomincio ad utilizzarla in modo più importante verso aprile quando le temperature sono aumentate da gennaio fino a marzo io naturalmente sono in toscana poi dipende un po anche dal nord al sud è chiaro che in sicilia hanno un clima sono più fortunati in trentino alto adige il clima è più rigido per cui questo cambia e naturalmente bisogna anche considerare questo ma in toscana normalmente gennaio febbraio marzo sono i mesi più rigidi la pericolosità di questi mesi è relativa al ghiaccio per cui in questi mesi sicuramente non vado sull'appennino tosco emiliano perché anche se la giornata è bella magari la giornata non è troppo non è troppo fredda possono esserci delle curve che sono più fredde perché magari il sole non non ci picchia mai per cui comunque può esserci del ghiaccio il ghiaccio è una cosa pericolosissima già per le macchine figuriamoci per per le moto per cui gennaio febbraio marzo utilizzo la moto nelle ore più calde ovvero dalle 10 mezzo 11 in poi fino massimo alle 4 3 e mezzo 4 e solitamente vado verso vado verso il mare vado verso livorno vado verso le zone più che so soprattutto vicino al mare che so che sono più più caldo dove il pericolo del ghiaccio è molto limitato detto questo oggi alcuni vi darò alcuni consigli per la guida in utilizzando appunto la moto anche di inverno prima di questo voglio dirvi che la prima cosa da evitare è quella di guidare la moto quando non siete al 100 per cento come salute ora per esempio sentite che non ho che ho il naso tappato presso raffreddore per cui cerco di anzi evito di utilizzare la moto non ho capito bene il motivo anche se vi coprite molto quando non siete al 100 per cento veramente le probabilità che finiate al letto per influenza sono altissime non so perché forse il corpo in questi momenti ha bisogno di calore ha bisogno di riposo e noi andando in moto quindi con il vento fatto che il vento disperda proprio il calore che abbiamo secondo me fa sì che se abbiamo poca febbre la febbre ci va al massimo ci va altissima se abbiamo poco raffreddore ci viene tanto raffreddore se abbiamo poco mal di gola aumenta il mal di gola per cui veramente se non siete al 100 per cento cercate di evitare consiglio mio ormai l'esperienza mi dice mi dice questo io cerco di utilizzare la moto soltanto quando sto bene al 100 per cento per cui in questi giorni purtroppo sto utilizzando la macchina sono almeno dieci giorni che non riesco a togliermi questo fastidioso raffreddore e per cui non non ho più utilizzato la moto detto questo quali sono i consigli miei consigli per poterla utilizzare il più possibile allora i primi due componenti fondamentali per l'utilizzo della moto d'inverno sono relativi proprio alla moto stessa allora primo è il parabrezza quando avete un cupolino parabrezza chiamatelo come volete più ampio sicuramente questo è un vantaggio soprattutto nell'utilizzo d'inverno perché il vento disperde tantissimo calore meno vento avete addosso e quindi più calore vi rimane vi rimane per cui avere o cambiare il cupolino maggiorare il cupolino è sicuramente una mossa azzeccata per affrontare l'inverno attenzione però per quelli che fanno fuoristrada perché un cupolino alto un cupolino importante può essere pericoloso sapete che in fuoristrada si guida in piedi e per cui se perdete o per un sasso perché cadete comunque perché perdete equilibrio e cadete in avanti il rischio è quello di scusate venire colpiti al parabrezza proprio in questo punto qui della gola che è un punto anche molto delicato per cui stateci attenti se fate fuoristrada non maggiorate troppo il cupolino io sinceramente ho deciso di rimanere con questo qui facendo fuoristrada innanzitutto perché copre abbastanza bene per il momento è abbastanza coprente per me anche per fare viaggi e poi perché utilizzandola in fuoristrada non voglio che diventi una qualcosa di pericoloso proprio per per la guida per la guida stessa ecco la seconda il seconda componente fondamentale per poter guidare in per poter guidare la moto è il riscaldamento alle manopole allora lo so riderete perché io sono sempre stato sono contro l'elettronica sono contro l'ausilio di questi apparati lo so però riscaldamento alle manopole è una cosa fondamentale vi spiego il motivo naturalmente questi sono i guanti che utilizzo io questi sono quelli invernali e questi sono i guanti che utilizzo durante durante l'estate allora con l'ausilio del riscaldamento alle manopole io riesco a portare avanti questi questi guanti vestivi fino a dicembre per cui se li confrontate ora guardate guardate la differenza ora è naturale che le sensazioni che si riescono ad avere le sensazioni proprio il feeling che abbiamo con la moto con questi guanti è del tutto diverso dalle sensazioni che possiamo avere con questi guanti per cui questi sono sicuramente più limitati da un punto di vista proprio delle informazioni che il terreno e le vibrazioni ci possono dare certo vanno utilizzati per forza perché sono ti coprono molto di più dal caldo ma certo che perdiamo 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 molto ora io gennaio febbraio e marzo comunque anche con il riscaldamento alle manopole sicuramente utilizzo questi guanti questi non sono più sufficienti quando viene troppo troppo freddo certo riderete sicuramente molti di voi avranno dei dubbi ce l'avevo anch'io anch'io all'inizio non credevo che fossero così fondamentale questo riscaldamento alle manopole ma è veramente qualcosa di incredibile qualcosa che aiuta proprio anche il piacere insomma di guida nei momenti nei momenti di invernali anzi lo rendono migliore anche dal punto di vista della sicurezza perché con questi guanti si guida molto meglio e sicuramente lo rendono possibile se andate in dei posti dove veramente è freddo perché allora con l'ausilio di questi guanti abbinati con il riscaldamento alle manopole veramente riuscite a riuscite comunque a viaggiare viaggiare discretamente ecco considerate che le mani sono le parti più delicate perché sono le parti innanzitutto che sono più lontane dal nostro corpo sono le parti che tendono a ghiacciarsi di più tendono solo le parti veramente che le sono più difficili ecco da riscaldare per cui veramente questo riscaldamento alle manopole è un qualcosa di molto molto utile a questo punto sulle gli apparati che possono aiutarci della moto abbiamo abbiamo finito la moto non può aiutarci più di tanto da questo punto di vista naturalmente ecco andiamo un po al vestiario utilizzo normalmente il casco e questo è anche di legge è dovuto poi tanti di voi potranno utilizzare anche il sottocasco io purtroppo il sottocasco non riesco ad utilizzarlo perché forse un problema di traspirazione insomma mi viene a fare la nausea con se sono troppo coperto per cui non per me non è non mi dà delle belle sensazioni per cui io utilizzo un paracollo ora vedete questo qui questo per esempio è della kawasaki che non c'entra nulla però è di questo tessuto tessuto nylon credo credo che sia molto elastico e questo è quello che utilizzo non cerco di utilizzarlo sempre anche perché una protezione lo cerco di utilizzarlo anche d'estate perché ha una protezione dalle vespe dagli insetti che andandovi a colpire in questi punti che sono punti molto delicati se vi prende per dire un calabrone e un insomma un vespone quelli super velenosi o più di uno ecco essere colpiti qua sicuramente soprattutto quando andate in autostrada è un qualcosa che può essere anche pericoloso per cui io tendo sempre a indossarlo quasi sempre proprio se siamo in un caldo proprio torrido che allora li rischierei il rischierei proprio lo svenimento per il caldo allora a quel punto lì ne faccia meno ma solitamente veramente lo indosso anche nei periodi estivi naturalmente l'inverno lo uso perché mi protegge e mi protegge dal freddo ecco sotto io sono vestito come ora la camicia una maglia ecco non è che indosso particolari vestiti come maglia e come camicia normalmente sono vestito in questo modo dopodiché abbiamo la giacca ecco questa questa giacca qui ve l'ho già fatta vedere ecco c'ha all'interno già montato anche tutto l'interni cioè è montata già massima per l'inverno io la tengo sempre riattaccata lì attaccata c'ho già tutte le giacchette che sono le giacche che sono giuste per la stagione o quella estiva tutta traforata quella per la mezza stagione e poi c'è questa qui che è quella invernale quella che utilizzo ora in questo momento è già tutta completa e già tutta pronta e della tucano urbano è già tutta pronta per per essere utilizzata durante durante l'inverno per cui una giacchetta proprio per l'inverno la più pesante che potete che riuscite a comprare è quella è quella appunto che fa che fa il bisogno al bisogno vostro ecco un'altra cosa fondamentale in tanti ho visto che mi dicano ma io non so come vestirmi più di così non so come vestirmi e poi magari li vedo che sono con i jeans allora i pantaloni sono una cosa fondamentale questi sono pantaloni invernali io sinceramente hanno anche degli interni ora io l'interno riesco a non portarlo almeno fino ad ora sono riuscito ad evitare che di portare anche l'interno perché normalmente il motore il calore del motore devo vedere questo qui ma almeno ktm riusciva a scaldarmi abbastanza per cui ecco calzone calzone che ha già anche delle protezioni interne ecco questo qui non so neanche di che marca di che marca sia una vale quell'altra e insomma almeno che non andate ora a cercare proprio delle cose da 3 euro ma insomma normalmente un prodotto tecnico di un'azienda conosciuta è un prodotto che vi fa la differenza veramente fa la differenza da viaggiare con un paio da un paio di jeans a questo ma fossero anche jeans con le protezioni a questo calzone e vi fa un cambio esagerato cioè una differenza enorme ecco andiamo avanti durante durante l'inverno poi utilizzo questi questi stivali che sono mezzi sfondati ora poi anche li ricomprerò appena ci viene fuori un buco che sono i sono gli stivali che molto molto chiusi no molto questi qui di estate è impossibile portarli a meno che io li porto se faccio fuori strada naturalmente in quel caso lì ricordatevi sempre di portare uno stivale che vi possa proteggere il la caviglia che è la parte più delicata per cui d'estate utilizzo comunque questi questi stivali ma d'inverno ecco in questi in questi periodi qua sicuramente sono sono il vestiario che utilizzo sono la normale normalmente utilizzo questo questo stivale allora viaggiare d'inverno sicuramente ha più difficoltà e questo è viene da sé secondo me fino a dicembre non tanto per il freddo non tanto per quello che è la strada quanto il fatto che comunque siete molto vestiti per cui quando andate magari a mangiare quando andate in un ristorante allora lì è troppo caldo per cui è sempre difficile trovare un giusto equilibrio tra l'essere troppo vestiti perché fuori è freddo cioè c'è una grossa differenza tra la temperatura all'interno e la temperatura fuori per cui se uno si adatta alla temperatura fuori poi naturalmente la temperatura dentro soffre per cui non è sempre facile togliersi tutti questi giacche tutti questi stivali insomma per cui è chiaro che c'è una difficoltà una difficoltà superiore naturalmente a quella che sono quello che è il viaggiare d'estate però almeno io dico almeno fino a dicembre secondo me tutti sono in grado di poter viaggiare per cui alla fine sono veramente tre i mesi su quali posso capire che uno chiuda la moto a parte io non lo capisco ma non lo capisco perché io non la chiudo mai magari anche un giretto di pochi chilometri 10 15 chilometri comunque merita a farlo no per anche per mantenere la batteria per la parte io ho un mantenitore per cui potrei anche metterla sotto il mantenitore però preferisco ogni tanto farci ecco i 15 chilometri che gli danno una una rica una ricarica almeno ogni 15 giorni però detto questo detto che comunque gennaio febbraio e marzo hanno una loro fragilità ecco tutti gli altri mesi sono mesi che può la moto può essere utilizzata tranquillamente io a questo punto vi saluto come sempre se vi è piaciuto questo video metteteci mettetemi un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti